Il gruppo di TNT, innanzitutto TNT, questa sigla, che cosa significa? Signiferebbe gruppo al tritolo, gruppo al tritolo, allora vado a presentare subito i componenti di questa band musicale, iniziamo dalla voce e chitarra, facciamo una cosa, io vi presento e voi fate delle scariche, la scarica di batteria, di chitarra, di basso, ok? Ok? Abbiamo capito? Iniziamo, alla voce e ad alla chitarra, Michele. Michele! Oh, così! Al basso! Mariano! Mazzo! Ancora, alla chitarra elettrica! Marco! Ok, vai Marco! Da questa parte, alla pianola... Michele! Michele! Ed infine, alla batteria, lui, capellone... Antonio! Antonio! Signore e signori, TNT con The World, a big fight! Guero miro, atacai, shut up... Guero miro, troppo di attac스�ono... e 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 Grazie a tutti. E vado ancora da Michele, Michele mi avendo con te, non usi i dischetti Michele con la tastiera, però Michele mi dovresti fare l'inizio di questo pezzo, la parte iniziale di questo pezzo, di questo precedente che avete fatto adesso. Sì, fammi, fammi, che bello, vai vai, che intanto presento il terzo pezzo. E adesso vado a presentare il terzo pezzo, sempre degli U2. Buon Dreamings Camp, se non sbaglio. U2, TNT. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti